Ingredienti Dosi per 4 persone 350 grammi di riso 100 grammi di spinaci lessati e tritati 2 zucchine piccole 1 cipolla grande 1 costa di sedano 50 grammi di burro Sali Pepe Olio Parmigiano grattugiato e brodo di carne o dado Preparazione In una casseruola mettere 30 grammi di burro con un cucchiaio di olio Farci cuocere la cipolla tritata Gli spinaci e le altre verdure a tocchetti Salare e lasciare insaporire per mezz'ora abbondante Aggiungere il riso e portare a cottura lentamente Aggiungendo poco a poco il brodo A cottura ultimata aggiungere il pepe Il burro rimasto e il parmigiano Mescolare e servire caldo Il piatto è pronto Buon appetito!